Rugonzoni che mi dice di quanto è avvenuto e di quanto dicono dei servizi e di tutto? Penso che la vera mostruosità in tutto questo sia uno Stato che abbandona dei cittadini onesti che si trovano, come in questo caso, costretti a togliere la vita a qualcun altro, che penso che sia forse uno dei drammi maggiori. Io capisco, ho sentito la famiglia di una delle vittime che chiede giustizia, però qua la vera e unica grande vittima è questa persona che è stata aggredita, cosa fa? Uno quando viene aggredito cosa dovrebbe chiedere? Scusatemi mi sparirete davvero? La pistola è vera? Non è vera? È ovvio che una persona reagisca e questa persona non può diventare un carnefice, assolutamente, perché per l'opinione pubblica, mi spiace che Castaldini, vedo già lì che fa delle smorfie strane, per l'opinione pubblica non può essere assolutamente carnefice, una persona che si è difesa o in altre occasioni difende qualcun altro o difende la sua famiglia, perché è un eroe, una persona che fa così, ha il coraggio e porterà un dramma dentro di sé tutta la vita e questo per colpa di uno Stato che è totalmente assente.